Un'estate tra borghi e quartieri all'insegna della cultura con Pesaro 2024. 65 appuntamenti per tutti dai più piccoli ai più grandi, burattini, teatro dialettale, letture, concerti, musica e tantissime altre attività che andranno ad animare i quartieri pesaresi con un programma che si concentra principalmente sulle giornate feriali. Siamo ormai alla sesta edizione di una manifestazione che è entrata nel cuore dei pesaresi, nasceva per andare in profondità rispetto alla bellezza e anche alla singolarità dei luoghi e dei quartieri condividendo con i presidenti, con le associazioni, tutta una serie di iniziative che sono rimaste poi costanti nel tempo come tipologia pur mutando a volte gli attori e i soggetti, quindi letture, laboratori, teatro per bambini, burattini, wallscape, passeggiate alla scoperta del territorio, piccoli spettacoli teatrali, qualche concerto, insomma una ricchezza di iniziative ragionate con i quartieri, per i quartieri e per i borghi con la finalità soprattutto al di là del weekend che a volte è sempre troppo carico di iniziative per cui magari normalmente ci si riversa in centro al mare ma offrire alle famiglie, non solo, un programma dal lunedì al giovedì con qualche naturalmente eccezione anche sul fine settimana ma probabilmente durante la settimana per poter vivere il proprio quartiere o scoprire altri quartieri della città perché non si conoscono più i quartieri della città come una volta, c'è meno abitudine a spostarsi anche tra i più giovani e non solo, quindi è anche un modo per scoprire attraverso un contenuto anche la bellezza di un luogo o la specificità di un quartiere rispetto all'altro. Borghi e i quartieri è ancora una volta l'appuntamento dell'estate, ancora una volta all'interno dei nostri quartieri per un pubblico più vasto possibile. L'intrattenimento varia dagli adulti ai più piccoli, tanti sono infatti gli appuntamenti pensati per i bambini dai tre anni ma anche più piccoli in su, pensati in autonomia o anche insieme alle loro famiglie. È sempre un momento prezioso poter passare del tempo insieme alle proprie famiglie, un tempo buono attraverso attività che possano goderne anche durante l'estate. Un breve accenno del programma lascia poi comprendere la ricchezza di questa rassegna estiva. Abbiamo i burattini di Renzo Guerra, abbiamo spettacoli di giocoleria, bolle di sapone e magia per i più piccoli ma naturalmente anche per le famiglie, letture per bambini ma anche letture per grandi, wallscape, camminate esperienziali, quindi queste passeggiate insieme ad una guida che spiegherà e racconterà quello che si sta vedendo durante il percorso. Abbiamo altre iniziative tipo presentazioni di libri o cose dialettali che sono sempre molto seguite e molto esilaranti come Franca Mercantini, Simone Garben Morotti, qualche festa di quartiere e anche qualche fuori programma. Il 24 agosto avremo a Novilara l'osservazione delle stelle dal castello. Grazie. Grazie. Grazie.